Anche questo obiettivo sarebbe stato raggiunto solamente alla fine del tempo al ritorno di Gesù nella gloria del Padre. Ma in verità è già un obiettivo raggiunto dalla verità assoluta che si è reincarnata in me. È il giudizio più bello, più liberatorio che l'uomo potesse mai aspettarsi, perché libera veramente lo spirito del libero arbitrio concessogli da Dio. Un libero arbitrio che, se è veramente libero, non può mai essere poi oggetto di una pena, perché se io concedo un arbitrio, quell'arbitrio è stato concesso e non diventa più una colpa di chi lo ha esercitato, semmai di chi ve lo ha concesso. Ma in questo caso il libero arbitrio concesso allo spirito è quello di prendere più o meno le distanze dal proprio io. In altri termini il mondo, l'esistenza concreta è in questi termini con il Dio ente assoluto che, come un creatore di ogni cosa, è a monte di ogni cosa scritta o disegnata dalla sua pelle. di conseguenza è il responsabile unico di tutta la vita dei personaggi. Ma quando Dio è sceso in un personaggio ad animarlo, gli ha concesso il libero arbitrio di pensarla a suo esclusivo modo di vedere. La sola cosa che l'uomo non deve fare è quello di essere ipocrita, perché uno spirito ipocrita dissocia la sua buona fede in un imbroglio che è intollerabile. Ma alla fine nessuno spirito potrà essere ipocrita, perché dopo questa vita che culmina con la morte e che noi ci illudiamo di compiere liberamente, assisteremo alla retrocessione di questa vita fino al suo punto iniziale, come un film che attraverso un reale replay ritorni alla sua origine. E allora ci accorgeremo che non esisteva solo un divenire, ma ne esistevano due, perché dovevano contraddirsi l'un l'altro, in quanto non è vero che esiste solo un fotogramma del film che esiste solo un fotogramma del film che evolve, ma esistono tanti fotogrammi uguali e successivi, differenti tra loro, che quando sono visti in sequenza uno dopo l'altro in generano l'effetto cinematico e un apparente divenire. Divenire che non esiste, che non è vero, perché un fotogramma di un film non diventa mai un fotogramma altro del film, fino a diventare l'ultimo fotogramma. No, seguitano a esistere tutti quanti i fotogrammi come le varie sezioni di un eterno progetto. Ma se noi ci inganniamo e crediamo nel divenire, allora dovremo assistere a due successivi divenire uguali e contrari. Infatti noi vediamo questo sulla base di quello uguale e contrario a questo che è già in atto, ma non lo vediamo perché noi, vedendo in modo relativo a quello, non vediamo quello, ma questo, quello relativo, ed è relativo in un modo che è esattamente uguale e contrario a quello. Di conseguenza, l'uomo è imprigionato in un apparenza che gli dà l'idea di una libertà fattiva che invece non c'è, ma grazie a questa apparenza l'uomo è indotto a entrare in azione con la sua volontà e così facendo si comporta proprio come un bambino che fa le sue esperienze che crede siano assolutamente libere, ma che invece sono ben controllate da un padre che è assolutamente attento a che il figlio non compia nulla che gli possa far male. Di conseguenza il giudizio finale, quello atteso da sempre, è proprio quello che libera ogni soggetto e gli apre il suo paradiso, quello che ogni spirito soggettivo arriva a desiderare, come quel bussare a cui alla fine Dio risponderà. L'uomo busserà attraverso l'ideale sua salvezza, la salvezza di ogni uomo, quella assoluta, è Dio e in questo modo Dio, imponendo una salvezza relativa alla vita relativa, impone anche un ideale di un Dio relativo, relativo al suo presupposto e questo Dio relativo diventerà per lui il Dio assoluto, perché dopo una vita ricevuta tutta e non oggetto di una scelta soggettiva verranno vite che saranno scelte da ciascuno di noi attraverso la condivisione della vita che oggi hanno avuto tutti gli altri. Di conseguenza il limite di quanto oggi non c'è nella mia vita, perché sembra che sia stata data agli altri quella abbondanza o quel bene che non è stato dato a me, questa apparente rivalità non esiste perché è un ordinato dividersi di tutto il bene in una infinita e sistematica suddivisione. C'è un sistema integrale di tutto il possibile e ognuno ne ha avuto uno coerente e che è equilibrato da tutti gli altri. Di conseguenza poiché il vero rapporto sta tra me e gli altri, io supererò me attraverso gli altri, ossia attraverso quel bene che oggi appartiene al prossimo. Quindi io riuscirò a godere per condivisione, per comunione il bene del mio prossimo, se oggi avrò imparato a non assumere le distanze. Ma io non sono libero di assumerle o no. Queste distanze derivano dal ruolo che è stato assegnato a me da Dio, a mio personaggio da Dio. Per cui se io sono stato creato con dei nemici, io avrò un paradiso che terrà conto di questi nemici. Però alla fine io riuscirò comunque a essere libero perché il libero arbitrio concesso allo spirito è veramente un arbitrio così grande da non essere assolutamente condizionato alla vita reale che ciascuno ha e che ciascuno osserva come l'attore e l'animatore di quella vita assegnata da Dio. Quindi il paradiso è assicurato a tutti e ciascuno lo avrà proprio per come lo vorrà, proprio per quell'ideale salvezza che avrà maturato in se stesso e che poi per lui la farà da Dio, tanto che farà esistere tra tutto il possibile e navigherà in eterno, tra tutti i casi possibili della vita, in tutto l'universo, viaggiando tra i mondi e le stelle, avendo una vita infinita perché è contraria a questa avuta e per fortuna ben definita da una morte.